benvenuti in questa registrazione se sentite rumori e che ci sono le finestre aperte insomma c'è gente fuori che sta trapiantando fiori insomma andiamo a vedere un'altra registrazione fatta da voi tutto spettinato vabbè fa niente schermo intero allora andiamo a sentire l'audio di luisa andiamo a sentire l'audio di luisa come sempre in alcuni frangenti la metaforia non sarà chiara sarà ripetuta tre volte e niente andiamo a sentire questo questo pezzo l'inizio di questo pezzo mi pare che luisa cercava il suo papà e pare che era la festa del papà quel giorno lì che è stato registrato l'audio l'ho sentito una volta per sentire se andava bene spiego nel senso che l'ho sentito una volta per sentire se andava bene e poi non l'ho sentito più perché perché magari dicono cose e non voglio che mi influenzano nel mio sentire molto semplice allora andiamo a sentire un attimo che c'è l'audio basso io in cuffia allora qui un attimo perché ok la neve trovi e ma dice tuo papà ti risponde sta dicendo che a tua mamma in un posto dove c'è la neve insomma non è pieno di luce quindi molto probabilmente ti sta chiedendo di dargli una mano con non so se sei credente o meno messe preghiere comunque si farà il possibile nel senso se se chiederò ai miei guida e se possono dargli una mano insomma scusate andiamo a sentire l'altro pezzo e qua dice che c'è una persona lì che maniaca nell'ordine in questa frangia di audio non so se è in vita a fianco a te o c'è qualcuno che era in vita insomma è nell'altra parte e comunque sta dicendo che c'è questa persona che un po maniaca nell'ordine o magari tu sei maniaca nell'ordine non lo so e comunque sta a te poi capire di chi sta parlando insomma qui all'ordine che l'altro pezzo ok scusate ma è ripetuto in tre parti ogni volta e non so quale sia ok questa vai sembra consiglio non soffrire dice comunque sentirai questa metafonia sta dicendo qui consiglio non è soffre cioè non soffrire per le sorti comunque di tua mamma da quanto ho capito qui è il tuo papà che parla e mi pare che forse è un'altra persona nell'aldilà e lui parla solo di tua mamma in questo in questo frangente andiamo a sentire un altro pezzo qua dice io olmo per ogni si nel senso c'è olmo in questa registrazione e dice per tutti c'è olmo quindi anche lui molto probabilmente si è mosso per cercare di aiutare penso penso a per chi dice ma chi dice mamma neve e quindi anche loro quando trovano qualcuno in difficoltà cercano di fare il meglio per quest'anima qua parla di soldi dice non stare fissata sui soldi o molto probabilmente anche comunque chi ti sta dando questo messaggio magari c'aveva questa propensione per i soldi non teniamo la testa sempre sui soldi nel senso viviamo la nostra vita viviamo il nostro percorso insomma anche se i soldi sono importanti però qui ci danno il consiglio un po tutti di non fissarci con i soldi perché dice qui ramo va nel senso la vita scorre la vita va non stiamo come detto prima sempre col pensiero dei soldi perché la vita scorre la vita alla fine noi non ci rendiamo conto ma è un attimo se voi pensate 10 anni fa 20 anni fa stavate pensando a mamma tra dici 13 anni 20 anni se guardate indietro questo tempo è già passato resiste non so se mi sono spiegato e qua ci dice un particolare dice e ma e sta a soffrire metà soffrire cioè tua mamma è a metà tra il percorso per andare nella luce dice chiaro e ma metà soffrire ok e ma metà soffrire a metà nel posto dove c'è la neve quindi non se la passa bene ecco qua dice è molto particolare non è molto particolare perché dice per te due o tre preghiere quando sta nel senso cerca di fare due o tre preghiere o se le stai già facendo per dargli una mano per dargli una spinta e qua dice dirvi tante cose vorrei dire tante cose non solo magari a te o al resto della famiglia però il tempo è quello che è ma poi ci sarà tempo per dirvi tante cose quando spero più tardi possibile tu andrei di là e magari recupererete il tempo passato insomma e poi dice mamma mia qua dice una cosa molto particolare parla di divorzio e qua è tua mamma che parla perché o tuo papà scusa è tuo papà che parla e lui quando si parlava di questo divorzio non so se è il tuo o di tua sorella o il tuo fratello non lo so lui tossiva per non dire la sua perché lo dice chiaramente lì divorzio a tossivo si sente molto chiaro a tossivo e caspita un attimo a tossivo cioè che magari non era propenso a determinate idee situazioni ok andiamo avanti no questo ancora quello e qui dice bene verrà in sogni verrà in sogni verrà in sogni no è più completa qui scusate qua dice o o qualcosa base adesso non è chiaro ma la parola che dice però dice che sta comunicando con te con i sogni da quello che ho capito io è ok questo è sempre la stessa dice cerca di fare le messe che mamma è lì in quel posto lì dove stavo parlando all'inizio da mesi e qua dice sta affrontare già mi pare allora che forse tu stai già facendo qualche messa qualche preghiera ah ecco a papà tu sai affrontare già hai capito a papà tu sai affrontare già molto ovviamente penso che comunque tu ti stai già muovendo a fare penso delle messe o delle preghiere o anche pensieri positivi verso la tua mamma e anche verso non so tu papà e tuo frontello ecco qua sì ok sai affrontare già sì ok niente torniamo sul mio faccione eccoci qui questa è la registrazione fatta sempre da voi da uno del gruppo e qua dice che la mamma non sta bene in un luogo nella neve a metà tra cielo e terra diciamo per farci capire chiede di cercare di aiutare la commesse o preghiere o pensieri positivi parla di sogni da quanto ho capito ti viene in sogno o l'hai visto il sogno qualcosa di questo genere insomma ma poi da un po toccate capire un po' da situazione e quello che è venuto fuori in questo oggi insomma la metafonia non è chiarissima in alcune parti è molto chiara in altre no e niente sono riuscito a registrare questo video che poteva non venire registrato oggi e sono riuscito ad avere un attimo di tempo questi dieci 15 minuti di per registrare questo video niente al prossimo video ciao